Più di 2000 atleti in gara a Chieti per l'undicesima edizione delle Sportiadi, la manifestazione organizzata dal Comitato Sportivo Italiano insieme al Comune. La cerimonia inaugurale ha dato il via a un mese di gare tra giovani atleti fino al prossimo 19 luglio. Una serata inaugurale con una bella presenza, ringrazio soprattutto le autorità, gli artisti che sono intervenuti e se così è la partenza io mi auguro che sarà veramente un bel palio, con il palio e con le altre manifestazioni sarà sicuramente una bellissima sportiva del 2022. Adesso si tratta un po' di lavorare in questi giorni, i primi giorni sono sempre un po' i più forti, anche se abbiamo poi nella seconda parte della prima parte, in luglio, abbiamo veramente manifestazioni importanti, ma con questo penso che sicuramente riusciremo a chiudere una bella edizione. Saranno mesi di grande divertimento, di grande sport, di grandi eventi anche culturali per un risveglio della nostra città che viene fatto nel migliore dei modi. Noi ci stiamo mettendo il cuore, la nostra amministrazione ci sta mettendo tutte le forze per regalare sorrisi e felicità alla nostra cittadinanza. Crediamo fermamente nella ripresa attraverso lo sport e nelle strade, stiamo dando vita a tanti eventi di questo tipo, le sportieri sono un appuntamento importante perché poi vedono protagonisti i giovanissimi, insomma gli atleti che più hanno sofferto durante il periodo pandemico e quindi un grazie particolare lo rivolgiamo al CSI di Chieti, al presidente Mimmo Puracchio perché con lui abbiamo instaurato veramente un gioco di squadra che ci ha consentito non soltanto di mettere in piedi questa bella cerimonia inaugurale ma che ci consentirà di regalare un mese pieno di sport ai giovani della nostra città. E a dare la via libera alla competizione sono le note di Piero Mazzocchetti. Sono molto felice di aver dato il mio contributo artistico a Sportieri 2022, è una manifestazione molto importante che lega lo sport, alle associazioni ovviamente sportive ed è un momento molto importante perché è di ripresa, di rilancio e soprattutto grazie allo sport che è un linguaggio universale come la musica riusciamo a fare del bene. Grazie a tutti.